Di Edgar Lee Masters, da antologia di Spoon River, Tom Bitty. Ero avvocato come Harmon Whitney o Kinsey Kane o Garrison Standard, perché anch'io mi occupai del diritto di proprietà per trent'anni, anche se alla luce delle lampade, nella sala da gioco del teatro. E vi dico che la vita è un giocatore che la sa molto più lunga di noi. Non c'è sindaco al mondo che possa chiudere la bisca. E se perdi, puoi strillare quanto vuoi, non riavrai il tuo danaro. Fissa una posta difficile da vincere, trucca le carte per metterti in difficoltà e sfruttare la tua debolezza. E ti dà 70 anni per giocare, se non ce la fai a vincere in 70 anni. Non ce la farai mai più. Quindi se perdi, vattene dalla stanza, vattene dalla stanza quando è l'ora. È meschino stare a cincischiare con le carte e imprecare, se perdi, con gli occhi ottenebrati e piagnucolando, tentare ancora e ancora.